ma sono po' di legna lì se vi serve a me serve perché devo fare il recintino ok qua poi facciamo altre cose perfetto aspetto questi due ferri oh ragazzi andiamo a spiare che lo stanno facendo andiamo che ne dicete solo a spiare io ci sto dai andiamo andiamo aspetta mi faccio la spada però però sentite a cuocere i pesci infatti io devo mangiare vabbè otto ne ho preso dai metti la cuocere andiamo otto sono tre a testa cioè tre a me una a te e tre a lui quattro a lui due sette una a me e si quattro a me una a te una a me la canola pesca mi prendo anche la carne e marcia ragazzi tanto ci potrebbe servire non è mai detto io mi faccio un bell'arco che ne dicete come si fa l'arco no non mi ricordo più come come si fa guarda tre bastoncini si no lo so e tre pezzi di filo no sono tre pezzi di filo e tre bastoncini e tre bastoncini vediamo se il grano è cresciuto giusto per vedere no oh i pesci sono vostri io sono nella fornage che stanno facendo uno ma io le prendo anche un po' due e tre ne abbazzo dai eh si tanti c'ho una bistecca e una mela anche no vabbè tranquillo vai prendi e poi vado a ripescare oh che si fottuti i pesci oh eh che si fottuti i pesci oh io il mio pesce che si fottuti i pesci dalla fornace vai averti il video io non ne ho pesci ma sei una checca sei io oh ma vai averti il video guarda non ne ho pesci lo so chi c'è in mano fa il mio giochetto eh dai andiamo andiamo ragazzi vinti con me nascondete le spade vai prendete in mano il pesce no facciamoci tre barchette aspetta aspetta mica li prendo a colpi di pesce dove sta fate le barchette le faccio io o le fate voi vai 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 chi è che c'è il legno io dai faccio io dai si faccio io o io il legno le sto facendo io eh si io ho fatto le ciotole vai vai ve le metto in acqua andiamo vai vai andiamo a far l'assalto vai dobbiamo fare a stelle indiano eh oh 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 così tutti e tre oh 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 si si così mi sembrava Tarzan mi sembrava aspetta che faccio il porto di segnalazione no ma l'ho fatto tutta una barchetta oh oh e io ciao ma siete delle merde siete dai no non fate così oh no no non è un altro scontro ma io ho fatto tre barchette oh ragazzi c'è una barchetta adesso no ma sono veramente ciecato andiamo 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 nel pozzo vuoi entrare nel pozzo fai vedere nella galleria nera oh ma salì su no ti spinge via oh ma tono ma non che cavolo mi spinge gli autoscontri vabbè c'è gli autoscontri dai andiamo andiamo non so dove sono precisamente ragazzi dovrebbero essere dall'altra parte dell'isola perché Darky ma è vicino alla neve vicino alla neve quindi di qua oh i maiali oh cibo cibo ho visto a terra minchia sembriamo davvero gli indiani andiamo a uccidere i maiali intanto no non rompete non rompete le barche vaffan cucciolo vabbè tanto c'ho la legna esatto ma neanche una bistecca no come no tre mena dato e guarda qua davanti di chi è quella barchetta che se ne sta andando ragazzi ma che vulcano c'è lì ragazzi guardate qua quanti ce n'è ma di chi è la barchetta che se ne sta andando è la mia se ne sta andando nel petrolio ma ragazzi ma avete visto sto vulcano quanta lava c'è tanto qualcuno è affogato oh ma che storia contempliamo ma che cazzo è sta roba no io vorrei andare là in alto e lanciarmi giù no ma che figata ragazzi ma ci lanciamo e facciamo il baggingian ma secondo me questi mi hanno ancora visto ma apriamo la mappa mi sentite eh si apriamo la mappa magari vediamo qualche costruzione oh ma quanti vulcani ci sono eh un bel po' mi chiamo un altro ce n'è di là ma anche più alto quello ma aspetta che mi sto lanciando da qua in alto io no ma non fare il pirletta manu va bene andiamoci ma dove cavolo hanno costruito loro dove sono cerchiamo loro dai eh aprite la mappa non ci sono qua un altro vulcano lì eh te l'ho detto che è pieno ma comunque non sono da queste parti filati sono dall'altra parte del mare ragazzi io c'ho anche un'altra bistecca che fa una crafting eh io l'ho fatto lo stesso dato dai è già fatto e io ho fatto allora faccio ti senti a me serve una barchetta veloce mi è ritalita la barchetta anche a me e avete legno per farvela o bolloni è ritornata la barchetta ma mi prende per il culo allora non metterla qua e non metterla qua vabbè rimani nel laghetto no perchè l'ho messa qua dai ma siete delle merde siete vieni qua barchetta vieni qua è una barchetta qua sperduta aiuto c'è uno zombie che mi insegue guardate che salto un piazzico la barchetta e salto dentro voilà ciao zombie con non c'è la barchetta no cacchio fai oh tre creeper petrolio dove dobbiamo andare e non lo so saranno da queste parti loro io sto morendo di fame io vedo una cosa bianca nella mappa qua c'è un bosco no la mia barca sta scappando per me sono da queste parti poi magari mi sbaglio io vedo una cosa bianca in mezzo alla mappa di là è casa nostra guarda apri la mappa guarda che c'è un puntino bianco eh lo so ma sarà qualche cosa di strana ragazzi ho trovato cheledan seguiamo cheledan vai 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 perché è morto si sta rifacendo tutta la strada andremo ehi sono senza barche dov'è 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 è sparito era qua davanti ragazzi era qua davanti si ciao barchetta dove è finito ciao lui eccoli dove 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 guarda dove sono venite ho trovato ho visto una cosa di legno lì in fondo guarda lì dove sono li abbiamo trovati guarda lì ah eccoli vai sali in groppo ma come ragazzi ma sbaglio o vedo tubi questa barchetta non serve un cazzo cioè hanno già fatto il query non ci credo come il query vedo dei tubi i gialli aia aia sono massi a piedi ragazzi ormai eccomi sono arrivato sto approdando non farti vedere ma non farti vedere vieni qua vieni qua non farti vedere pirla io sono dietro cheledan e non mi ha ancora visto e due uccidiamoli tutti no scherzo eccolo cosa c'è in casa cosa c'è in casa vedo una chest vedo una chest una chest due chest cheledan cheledan mi ha visto è entrato qualcuno in casa ma ero dietro io ciò 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 non farti vedere ciò ha beccato in pieno via 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 perché è in break up ma ragazzi via via fuga fuga cavo un fosso cavo un fosso non mi hanno visto non mi hanno visto non mi hanno visto no manu vieni con me ho visto dei tubi là dietro faccio gli scherzi ci stiamo guardando passate davanti fai finta di niente manu fai finta di niente tra l'allero tra l'allà non mi ha visto eccolo qua fai finta di oh guardate qua oh eeeh hanno fatto la caverna andiamo tutti andiamo tutti andiamo silenzio silenzio tanto non ci hanno visto oh cheledan non ci ha ancora visto è morto lì oh madonna mia mi sembrava una zombo sono morto l'ho ucciso io dai muoviti che c'è la roba qui c'è la roba qui muoviti ma come cazzo perché c'era lo scheletro invece beccato lo scheletro beccato te cheledan cosa che ha scritto luke cheledan chiede perché hai spostato il letto in cui aveva dormito veramente mi ha spostato tutti i letti dai che non ci hanno visto dai quasi quasi lo mettiamo in chiamata dai guardatemi la roba ragazzi è qua faccio no è sparito la tua roba no 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 è sparito la tua roba no no è scoppiato un creeper sulla tua roba no non ci credo ragazzi non ci credo dai ragazzi dai mi si trova dai non ci credo non ti credo non ci credo non ci credo juices no riguardi il video non abbiamo fatto apposta cosa c'è qua dentro ma questa roba nostra la roba però mi sta leggermente uccidendo ha mai scoputo 38 saffier aia, aia no, batterò giù l'ho sparito, che è Darkin guarda quanto ero baciato yai yai yai, siamo chi? salciamoli intorno, salciamoli intorno ragazzi Darkin aprite le cesta manetta l'assalto dei muoi cani io li poterei, io li uscirai tutto da le ceste e li butterei tutto a terra che, com'è morto? no mano, non dammela a me, no mano, no no no, di spezzino basta no ragazzi no, 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 che è morto prendi la mia roba, lui prendi la mia roba non ci credo, non ci credo prendi la mia roba prendi la mia roba noi ragazzi scappiamo di qua, scappiamo di qua ragazzi abbiamo fatto solo danni, via 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 che corri, lui hai preso la mia roba non lo so nabba, nabba, tornagli a prendere la roba via 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 nabba dove sei? dove cazzo sei? dove è casa nostra di là? via 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 oddio, mi fa male non riesco più a parlare mi fa male la bocca no ma rubati a riprendere, vuoi la mano? oddio rubini, zaffiri eccetera tornano indietro, grazie oddio ragazzi no nessuno ha rubato sono spariti col creeper no no è che ci sono passato sopra io per la roba di akim vieni qua nabba, rimetti la dentro rubare no tranquillo ah beh io ho trovato una falce che non è mia aspetta è saltato un creeper no madonna quanto stavo ridendo no ragazzi la t'affanculo va tol a darkim, una falce no la falce è mia oh che cazzo stai facendo ah e tu vasco evitammela darkim evitammela ma porca troia ma porca troia oh ragazzi ragazzi non è un griefing ma volevamo solo venirli a trovare già se la voleva a fottere Andrea allora cosa c'avevi il boss? io avevo la palla azzurra il piccone verde la redson non è mia e la spada verde di chi? la spada verde, l'accetta verde l'accetta verde? aspetta vieni di qua vieni minchia non capisco più un cazzo allora l'ender pearl non è sicuramente nostra no è loro spada, pale eccetera io c'ho la mia roba ragazzi anzi questo piccone non è mio la gunpowder non è nostra giusto? no è loro to' Andrea to' ti lo a questo ti lo a questo ti lo a questo che non è mio to' la carne in marcia Andrea questo non è mio ma questo era mio no il piccone verde è mio poi questo e basta io c'ho un piccone di diamanti di chi è? mio e il piccone verde dov'è? e prendi quello di diamanti basta tutto il resto è mio guarda la mia accetta dov'è il piccone verde? eeeh 30 team di chi sono loro? eh io attrezzi addosso e materiali non ne avevo ragazzi neanche io quindi allora gli diamo tutta la ragazzi ci rispondete o ladro piccone verde è mio ma ma non puoi dire che io non posso scrivere per favore poi cos'è che c'avevo la legna? ecco la 22 di legna vabbè basta ce ne andiamo? vabbè il marble non è nostro la red son ce ne andiamo qui? sono antipatici andiamo ce ne andiamo ce ne verremo a rubare di notte dai andiamo se mi sono dimenticato qualcosa scusateci dice che assalto che abbiamo fatto ragazzi non volevo fare niente e gli ho fatto più danni che il resto che le darà adesso arriva e muore ancora guardate tre volte che fa la strada in questo video aspetta che lo sposto arrivo subito eh no aspetta così muoio però non spostare non spostare no il posto ero dal cinema arrivo 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 no ma torniamo a casa non fa andiamo 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 che tali ciao che le dan e scrive ma scusa ma adesso rubate la roba no 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 mi è successo guardate i nostri video ragazzi no no non volete capire che è successo scusatevi per Roby da dietro eh ho capito si però vi abbiamo ridato no vi abbiamo ridato tutto ah si si è ecco qua grazie mille grazie mille no ti spiego Roby è morto a Kimbo e c'era tutta la sua roba a terra ah ok per prendere la sua roba abbiamo preso anche la vostra va bene va bene e comunque Roby non potevamo scrivere perché si vede l'IP per quello non abbiamo spammato prima ah ho capito oh mamma mia devo farmi la corazza mi sono scoppiati addosso tre creeper al terzo sono morto ma noi stiamo continuando a registrare se vuoi spostare Andrea spostalo ma perché ci sono tutti sti creeper scusate ma che cazzo ne so io secondo me avete messo poca luce perché da noi non ce n'è ragazzi registiamo un po' assieme veramente che cavo mi mancate e noi stiamo registrando veramente volevamo volevamo fare l'assalto indiano solo che ci sono troppi creeper ci sono saltati in alto ci hanno saltato loro annoio sposta Andrea Roby se ce la fai per favore allora ragazzi facciamo così per far intervenire Luke e gli altri saluto tutti per questa puntata sposta Andrea ciao a tutti va bene oddio mi fa male il diaframma mica la staff da ferro i reni ma vediamo un po' cosa ho rubato no scherzo non ho rubato niente ma forse 15 flint ragazzi ben ritrovati siamo tutti con Luke darky ciao Andrea bella Andrea 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 ti chiedo scusa ma tu non sai cosa è successo di guardarti per forza il nostro video ma avete spaccato tu ma non abbiamo siamo solamente venuti a spiare abbiamo fatto più danni che il resto vabbè dobbiamo mettere più luci comunque hai ragione Luke